guarda quanti dei vestiti ma da uno più quello dell'altro certo che tu eh pensandoci bene in 40 anni di matrimonio non mi hai mai comprato dico uno un vestito su che sapevo che tu li vestiti per piacere non ti dici queste battute così squalli di darmi per piacere no squalli di un fruscheco e poi guarda 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 i conti che sto facendo sempre i conti e non ci troviamo perché tu spendi spendi e spalle spendi e spalle a fare i miei soldi i tuoi soldi veri che i tuoi soldi sono i nostri soldi ma schier lo si soldi che se lo i miei lo devo soltare il guaglio di portare a lavorare capito sai che ti dico che cosa sai che ti dico che se non ti sta bene tutto questo ma è fuori in questo momento prendi la porta e vattene si 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 state buco ciao grazie